Due persone di nazionalità straniera hanno rapinato un'anziana signora strappandole la borsa, aggredendola e scaraventandola a terra. Il fatto è accaduto a Cosenza nel pomeriggio di sabato 23 settembre. Uno dei due malviventi è stato intercettato dalla polizia poco dopo l'accaduto. In seguito ha cerchiato e bloccato all'interno di un portone di uno stabile dove si era nascosto mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce. Durante la fuga i due si sono liberati dell'area furtiva che è stata recuperata dagli agenti e restituita alla vittima. La donna, provata dall'aggressione, ha raccontato di essersi sentita afferrare alle spalle e di essere stata scaraventata a terra mentre uno dei due le prendeva la borsa prima di fuggire, lasciandola dolorante e sanguinante. Dopo un primo soccorso da parte degli agenti, l'anziana signora è stata portata in ospedale dove le sono state riscontrate diverse fratture.